Sono stati confiscati a due capi della comunità organizzata Nocevina, capi di due epoche diverse che si sono succedute perché erano a capo entrambi di organizzazioni tra loro contrapposte. Questa è una struttura che è stata di proprietà di Mario Pember, che era appunto uno dei capi locali, il capo locale della nuova famiglia, ed è stato anche un importante collaboratore di giustizia. Fu scoperto il velo sulle attività della nuova famiglia, Pasquale Galasso, Carmine Alfieri. Diverso il discorso per l'appartamento che abbiamo appena visitato, che è un appartamento con un terrazzo che domina l'intera città. Ecco, quello era l'appartamento dove evidentemente teneva di poter andare a vivere con la sua famiglia, con i suoi cari, Salvatore Di Maio, che è stato il capo dell'organizzazione precedente alla nuova famiglia. Qui la camorra ha perso ed i beni appartenuti all'ex boss Mario Pepe, all'ex capo della camorra organizzata, Salvatore Di Maio, sono oggi simboli di legalità e di libertà. Lo Stato cede forte la determinazione nel rappresentare alle comunità una presenza costante, anche attraverso le confische e soprattutto i percorsi per fare di questi immobili, delle strutture a fini sociali. Oggi hanno c'era inferiore l'inaugurazione di una struttura in via astuti destinata all'accoglienza di donne vittime di violenza, ed un appartamento in via fucilari per dare riparo a nuclei familiari in caso di emergenza abitativa. Da bene confiscato a bene comune, un lavoro importante è quello dello Stato, le ricchezze delle mafie che si sono trasformate in luoghi di accoglienza, di supporto, opportunità lavorative e di partecipazione civile. Ed è determinante anche la simbologia che rappresenta per i territori sapere dove le mafie soccombono e dove i boss perdono la propria supremazia, le storie di sangue e di morte, le storie di terrore, che cedono il passo al riscatto dei territori ed una rinascita sotto il simbolo della giustizia. E dunque anche tracciare le figure dei boss, o che i beni sono stati sottratti, significa tracciare le linee di nuovi disegni proprio per le comunità, che sono legati ormai alla legalità e alla libertà. Questa addirittura è una confisca del 1987 definitiva, ma addirittura il sequestro risale all'85. Diciamo che il capo della nuova camorra organizzata a Nocere Inferiore, in tutto l'agronocerino sarnese, Salvatore Di Maio, era appartenente appunto alla stagione della nuova camorra organizzata, stagione della quale io non mi sono occupato. In quegli anni io, manco a farlo apposto, facevo giudice di sorveglianza, magistrale di sorveglianza e quindi ho conosciuto Salvatore Di Maio nella fase iniziale della sua detenzione come giudice di sorveglianza, ma non mi sono mai occupato dei processi che erano già tutti conclusi, tutti definitivi, salvo qualcuno che poi si è celebrato a Napoli. Secondo me il significato della confisca dei beni significa vittoria dello Stato in quel territorio, restituzione del mal tolto. Allora si potrebbero anche vendere questi beni, si farebbe cassa e si potrebbero risarcire anche le vittime di reato. Però io credo che sia giusta la battaglia che combatte da anni libera, cioè che questi beni devono rimanere come testimonianze della vittoria dello Stato. Ma è una testimonianza che non si può liquidare con la battuta beni confiscati e la criminalità organizzata. No, bisogna dire a chi sono stati confiscati. In questo caso è più difficile, devo dire, ho qualche difficoltà a dirlo, perché Salvatore Di Maio ha pagato quasi interamente il suo debito con lo Stato. oggi sconta la semilibertà, gli ergastoli, cinque ergastoli che gli sono stati inflitti e il suo avvocato, l'avvocato Antonio Sarno, che voglio ricordare perché è scomparso recentemente, riuscì a fargli ottenere i benefici penitenziari nonostante l'ergastolo stativo, riuscendo a dimostrare non solo la sua condotta detentiva, che direi, definirei esemplare, se non fosse dovuta una buona condotta all'interno di un carcere, ma anche per il fatto che riuscì a dimostrare, secondo me mirabilmente, con grande perizia, che Salvatore Di Maio, anche se avesse voluto, ormai non poteva più collaborare con la giustizia, perché ormai tutti i fatti che risalivano a quell'epoca, nella quale lui era stato coinvolto, erano stati tutti già chiariti fino in fondo, grazie ai collaboratori di giustizia, devo dire, ma che a quel punto lui non poteva aggiungere proprio nulla e questo fu un capolavoro, secondo me, da parte dell'avvocato Sarno.